Su il sipario al 43esimo Rossini Opera Festival che dal 9 al 21 agosto convergerà a Pesaro la passione dei melomani internazionali. È il primo ROF con il tenore Juan Diego Flores, direttore artistico della Rassegna, senza rinunciare però al suo naturale habitat da palcoscenico. Il cantante peruviano sarà infatti nel cast delle Comptorii che martedì 9 agosto inaugurerà il festival alla Vitrifico Arena con Diego Mateus sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del Coro del Teatro Ventidio Basso e la regia Le scene e i costumi di Ugo Deana. Il 10 agosto ci sarà la ripresa della Gazzetta con Carlo Rizzi a dirigere l'Orchestra Sinfonica Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna in uno spettacolo ideato da Marco Carniti. Spettacolo significativo anche perché riaprirà le porte del Teatro Rossini dopo i lunghi lavori di riqualificazione. L'11 agosto andrà in scena l'altra nuova produzione di questo festival oltre alle Comptorii. Si tratta dell'hotello diretto da Yves Abel. Come ogni anno i giovani cantanti dell'Accademia Alberto Zedda interpreteranno il viaggio a Reims il 13 e 15 agosto al Teatro Rossini. Gli allievi dell'Accademia Rossiniana che da quest'anno è sostenuta dalla Fondazione Meuccia Severi saranno inoltre protagonisti dei concerti al museo nel Museo Nazionale Rossini. Fitto il programma concertistico con sei appuntamenti tutti in programma Rossini. Il ROF 2022 si chiuderà domenica 21 agosto alla Vitrifico Arena con tra rondò e tourne d'ò, gala celebrativo che festeggia i 40 anni di Pierluigi Pizzi al ROF. Lo spettacolo sarà anche videoproiettato in Piazza del Popolo.